Salascaglia, benvenuti, questa è la prima intervista per Telemolise, è stato un gioco semplice oggi. Questa è la prima esperienza in Europa, quali sono i tuoi sentimenti? La seconda domanda, la prossima settimana, due gioco in tre giorni, prima San Martino e dopo Fienzo, cosa pensi? Stiamo vivendo un buon momento in questo periodo della stagione, dobbiamo continuare a lavorare duro e cercare di fare il risultato.